Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. No, lei sostiene di non essere cambiata e a differenza, guarda, tutto su qualsiasi problema, compreso questo, la differenza di approccio di Giorgia Meloni è che i precedenti otto governi avevano davanti a sé ragionevolmente un anno, un anno e mezzo di governo e quindi erano costretti a fare dei provvedimenti tamponi per raccogliere anche un po' di consenso dell'opinione pubblica così oggi su domani. Lei dice a me questo gioco non interessa anche perché non porta da nessuna parte, io ragiono sui 5-10 anni di governo, che poi se non accade non accade, non è che io sono sicura che accade, ma l'unica prospettiva che mi interessa è quella tra i 5 e i 10 anni. Quindi io devo tessere relazioni soprattutto internazionali perché ormai tutto si tiene in giro per il mondo per poter convincere l'Europa e il mondo per esempio che il problema dell'immigrazione, sì noi possiamo metterci delle pezze, i centri d'accoglienza, a controllare gli sbarchi, ma o il problema dell'immigrazione, il mondo lo risolve, in particolare l'Europa, oppure passeremo la vita a mettere pezze. Siccome a me non interessa mettere pezze. Quindi non è secondo te uno scarico di responsabilità? Come a dire, vabbè noi ci stiamo provando, non ci riusciamo, facciamo appello all'Europa, ora andiamo al mondo, oltre il mondo c'è la luna soltanto, non so chi ci può... Ma guarda che non è che non ci sta riuscendo lei, non ci sono riusciti i governi tecnici, non ci sono riusciti i governi di sinistra, non ci sono riusciti i governi 5 Stelle, allora prendiamo atto in maniera pragmatica che seguendo quelle strade autotone, cioè di fai da te, non è possibile. Cioè con il sovranismo, dimmi se ho capito, è interessante questo?